Senza ispirazione. Sono senza ispirazione. Non che questo sia un problema, me ne faccio una ragione, di certo il mondo non trema. E tuttavia, che dannazione non trovare alcun sistema, se non arguta soluzione, per unire tema e rema. Sarà il tempo un po' coggioso, questo mondo frettoloso, ma il mio genio sonnacchioso, è davvero assai ritroso.